Buone notizie per le aziende dell'indotto dell'Exilva, così l'onorevole Dario Iaia, deputato di Fratelli d'Italia e presidente provinciale a Taranto. Con il governo Meloni e con Fratelli d'Italia, le aziende dell'indotto Tarantino e non solo cominciano a ricevere delle risposte. In questi giorni stanno arrivando le missive da parte di Adi in A.S. con un'offerta di pagamento del 70% a saldo e stralcio del credito maturato. Si tratta chiaramente di una proposta che le aziende potranno accettare o meno, ma è un segnale importante che il governo Meloni con i propri provvedimenti normativi ed avendo impegnato oltre 120 milioni di euro mette a disposizione del territorio Tarantino. La proposta è arrivata alle aziende che si erano già insinuate nella procedura fallimentare pendente dinanzi al Tribunale di Milano, i cui crediti sono stati certificati dai commissari di Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dichiarati prededucibili. Bisognerà rispondere entro il 22 luglio. Le aziende dell'indotto, ricordiamo, sono impaurite per quanto accaduto già nel 2015. Ancora l'onorevole Iaia. Tutto questo in maniera assolutamente diversa rispetto a quanto avvenuto nel 2015 con il governo targato Partito Democratico, anno nel quale le aziende dell'indotto non hanno ricevuto alcunché. C'è però un problema che permane da parte delle aziende dell'indotto. Si fa notare che non tutte sono state coinvolte in questa iniziativa. Non solo dubbi sulla composizione delle procedure concorsuali, ma anche sugli aspetti economici che riguardano gli esclusi.